Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì conduce la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. E la trasmissione di oggi continueremo con i crogioli, il crogiolo del male, in particolare il giudizio di necessità. E prima di iniziare la trasmissione di oggi, intanzitutto io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo a piazzale Parmesan 8 Marchera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistiche Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Niente, prima di cominciare la trasmissione di oggi, devo parlare di un paio di cose che secondo me sono importanti. Prima un'informazione, vi ricordo la libreria Sotomondo in Treviso, via Tolpada 11. Bene, l'altro giorno in quella libreria ho portato una serie di libri nostri, miei, scritti da me, nei quali abbiamo tentato di tagliare ulteriormente i prezzi, cioè siamo cercando di arrivare al minimo possibile, credo che la libreria li venda sulle 25 mila lire, forse qualcosa farà anche sconti. Ho portato copie del Sentiero d'Oro, ho portato copie di ciò che porta a diventare tagli nella religione romana, ho portato copie dei fenomeni di premorte interpretati da stregoneria e dal paganesimo poeteista, ho portato copie del libro dell'anticristo, ho portato copie del crogiolo dello stregone e alcune copie anche del crogiolo del male. Il crogiolo del male che stiamo ancora presentando, niente, il crogiolo del male ho finito di scriverlo e l'ho assemblato, gli ho dato una tiratura decente e l'ho portato in libreria. Per cui se qualcuno gli può interessare sappia che in libreria Sottomondo, a Treviso e inviato il Pada11, può trovare questi libri in anche edizioni diverse, cioè può trovare quelli dell'istituto che sono in formato più grande e costano meno, oppure può trovare le mie che siccome le tiro, per quanto abbia tagliato i costi con le fotocopiatrici e tutto il resto, però hanno sempre un certo peso, insomma, comunque credo che la libreria li venda sulle 25.000 lire, poi vi metterete d'accordo con la libreria, insomma. E là potete trovare tutti quanti i miei libri, trovando i miei libri date anche un contributo alla radio, perché riconosco anche una piccola percentuale anche alla radio, che ci permette di continuare a diffondere il nostro pensiero. Due cose che sono importanti prima di fare il discorso sul giudizio di necessità nel coraggio del male. Allora, questa settimana ho ricevuto alcune telefonate riguardanti episodi, cose, comportamenti che a me non piacciono. E ne cito uno, essenzialmente, una signora che mi ha telefonato qui in radio dopo la trasmissione dell'altra volta. Praticamente questa signora ha avuto delle condizioni nella vita che l'hanno un po' tenebrata, cioè l'hanno messa in grave difficoltà. E l'hanno messa in grave difficoltà per le sue scelte, cioè per come lei ha scelto e per come lei aveva deciso di gestire la propria vita. Bene, queste scelte si sono dimostrate disastrose. Questa signora cos'è che ha fatto? Si è rivolta a un mago, a uno di quelli che promettono Mario Monti, e che gli ha rifilato una pozione per, non so, un centinaio di mila lire, grosso modo, sopra o sotto, adesso non mi interessa neanche saperlo. Naturalmente si è accorta di essere stata bidonata, come vengono bidonati tutti quelli che vanno dal prete e tutti quelli che vanno dai maghi. Non c'è nessuna differenza. Questa signora ha pensato di telefonare a una spicchia qui della radio per trovare aiuto, per trovare conforto. La spicchia della radio si è prestata a dare aiuto, cioè si è prestata a darle conforto, si è prestata a venirle incontro, si è prestata a darle una mano. Bene, questa signora cos'è che ha fatto a questa spicchia della radio? E gli ha detto, siccome le condizioni che io ho costruito nella mia vita possono darmi dei problemi se io ti frequento, tu dimmi quando andiamo fuori, quando possiamo fare delle cose, e io vedo se sono disponibile o non sono disponibile. Questa è una condizione atroce, questa è una cosa oscena. come una spicchia della radio accetta di darti una mano per venire fuori dalla tua situazione o comunque per attenuare quelle che sono le tue condizioni di vita e tu, che avevi pagato un mago per avere una fattura, per avere una truffa, poni delle condizioni alla spicchia della radio. Allora significa che tu dai tue condizioni di vita non hai nessuna intenzione di uscirci, non hai nessuna intenzione di affrontare la vita e stai tentando di trasformare la spicchia della radio che è disponibile a darti una mano in una serva. Cioè stai praticamente costruendo un bisogno di carità. Cioè stai trasformando chi ti aiuta in qualcuno come se tu gli consentissi di aiutarti. Per me è una cosa folle. E questo vale per tutti quanti. Di questo tipo di persone, io non solo non so che farmene, ma spero che stiano il più distante possibile. Perché questo tipo di persone che vanno a pagare maghi, che vanno dal prete pronte a servire il prete, e poi pretendono di rivolgere a persone che costruiscono se stesse e pretendono di trasformare queste persone in loro servi, beh io comunque a queste persone do il massimo del disprezzo. Cioè non do nessuna attenuante. La loro miseria si è solo costruita e la loro miseria la vanno ad affrontare. Ora chiunque sia io o chiunque altro siamo disposti a dare una mano alle persone che decidono di fare qualcosa per migliorare la propria vita. Ma noi non siamo servi di nessuno. Questo deve essere chiaro. Come noi non chiediamo soldi, perché dici tanto Claudio è scemo, Claudio è fesso, oppure è uno stupido, non chiede soldi, si presta, è disposto a darmi una mano. Sì, io sono disposto a darmi una mano, ma non ho da farti da servo. Per cui tu te ne vai anche a fanculo. Deve essere chiaro. E anche se il tono è pesante, anche se la battuta è pesante, questo è in realtà il discorso da fare. Tu, signora, tu, signore, non trasformi in servo nessuno per quanto mi è possibile. E questo deve essere chiaro per tutti quelli che si prestano. Perché esistono un sacco di persone che vanno dal mago, vanno dalla maga, vanno a leggersi le carte, vanno a sperare nel futuro, vanno a farsi fare la messa dal prete e pagano, vanno a fare tutte queste porcherie. Magari hanno firmato anche sui 740 per dare i soldi al prete, per dare i soldi alla Chiesa Cattolica. E dopo vengono da te che sei disponibile, beh, vengono da te per trasformarti in servo solo perché tu non gli chiedi i soldi, solo perché tu non tendi ad umiliarli, solo perché tu non ti atteggi ad essere più forte di loro. Questo giochino con me non lo fate per piacere e non lo fate, secondo me, neanche con gli altri, però dopo saranno gli altri a decidere per se stessi. L'altro discorso, questo è il primo discorso che faccio, e il secondo discorso lo faccio invece a tutti i pagani, cioè lo faccio a tutti i pagani, a tutti quelli che percorrono un sentiero simile al mio, o comunque vicino, o comunque collaterale. Il discorso che faccio potrebbe essere intitolato in questo modo, ed è alimentarsi dal fuoco. Cosa significa questo? Che noi non abbiamo una scuola da cui nascere, o una scuola che produce le nostre idee e le nostre cose. Noi questo non lo abbiamo. Noi abbiamo soltanto noi stessi che, nascendo da un sistema sociale retto dal cristianesimo, reagiamo all'orrore cattolico, e dalla nostra reazione all'orrore cattolico costruiamo il nostro cammino. Ora, siccome questa operazione è sempre un'operazione individuale, è sempre un'operazione personale, è sempre uno sforzo, diciamo così, da singola persona, gli sbocchi, le reazioni alla fobia cattolica sono diversi da persona a persona. Per cui ogni persona si costruisce e si trasforma in maniera diversa. Io posso avere un pagano dionisiaco, un altro pagano che per lui il sesso è non so cosa, e invece posso avere delle persone più serie, delle persone che lavorano più seriamente, delle persone che hanno degli intenti più vivi e più vicini ai miei. Cioè, io posso avere tanti comportamenti diversi l'uno dall'altro, e non è che un comportamento sia superiore ad un altro, ogni comportamento è funzionale alla persona che li produce. Chiaramente cosa succede? Che quando metti insieme tante persone che hanno comportamenti diversi, hai anche altre tante reazioni, e anche cose che magari preferiresti non avere, cose che potrebbero anche rompere le scatole. Però il problema è questo, cioè che noi dobbiamo pulirci dalle sterpaglie. Cioè, una delle azioni che noi dobbiamo fare è quello di ripulire noi stessi in maniera tale che il fuoco non ci bruci. Cioè, io posso frequentare qualsiasi ambiente, devo essere in grado di frequentare qualsiasi persona, devo essere in grado di frequentare qualsiasi contraddizione, devo essere in grado di affrontare qualsiasi cosa, e il mio comportamento deve essere tale da venire fuori indenne da qualsiasi situazione io, per condizioni mie o per condizioni imposte o per relazioni dialettiche con il sistema in cui vivo, arrivo ad attraversare. Un amico direbbe dovresti essere impeccabile nel tuo comportamento. Siccome l'impeccabilità come elemento oggettivo non esiste, esiste però una scelta soggettiva di impeccabilità personale, impeccabilità nei gesti. Cioè, sono dei gesti che fanno alcuni pagani che a me possono magari dar fastidio, però appartengono a loro, cioè per loro sono importanti. Nella misura in cui loro camminano con me, mi danno una mano, io devo fare in modo che questi gesti, loro li facciano pure, però a me non devono arreccare da me, cioè non devo farmi problemi per ciò che quei gesti potrebbero arreccare. Cioè, spesso le persone alimentano le proprie paure, cioè hanno paura che qualcosa che li tocchi li può danneggiare. Ecco, questo è un gravissimo errore. Noi dobbiamo essere precisi in noi stessi e per noi stessi. E se qualcosa viene fatto da qualcuno che magari non ci piace, magari non è in linea con le nostre tensioni, magari non è in linea con i nostri desideri, bene, questo non solo non deve arrecci danno, ma deve invece costituire un arricchimento al nostro esistere. Purtroppo la vita è fatta di contraddizioni, è fatta di scontri, è fatta di cose dure e anche cose meno dure, però dobbiamo sapere sempre riuscire a sfruttare tutti questi momenti che noi affrontiamo. E questo si chiama alimentarci dal fuoco. Cioè, io cammino nel sistema sociale in cui vivo e nel sistema sociale nascono le contraddizioni. Le contraddizioni sono fiamme di un fuoco. Bene, non solo io devo essere in grado di attraversare queste contraddizioni e viverle, ma devo essere anche in grado di nutrirmi da queste contraddizioni. Per cui la diversità che noi stiamo costruendo è una diversità reale. Però nella diversità reale che stiamo costruendo esiste sempre il tentativo di omogenizzare i comportamenti. Cioè, di dire, oh Dio, questo forse mi può danneggiare o l'altra cosa mi può danneggiare. In realtà non esiste un vero e proprio danneggiamento, ma esistono delle preoccupazioni come se qualcosa potrebbe ferirci. E questo lo facciamo tutti. Bene. Una delle cose da fare è imparare ad alimentarci dal fuoco. Cioè, imparare ad alimentarci dalle diversità e dalle contraddizioni, anche quando a volte non ci piacciono quelle cose. Perché io vorrei anch'io che tutti i pagani e tutti gli apprendessi e i stragoni facessero quello che faccio io. Ma se facessi una cosa del genere non farei nient'altro di diverso di ciò che fanno i cristiani. Cioè, tenderei ad appiattire i comportamenti, se anziché arricchire il sistema sociale in cui io tenderei ad appiattirlo. E chiaramente i comportamenti non è che siano solo il comportamento in se stesso, ma è anche il riflesso che socialmente ha quel comportamento. E io devo arricchirmi proprio anche da quel riflesso. E purtroppo quello succede. Succede che alcuni pagani mi dicono sì, vabbè, tu sei serio, però gli altri non so. Beh, tu mi capisci, ma gli altri non so se mi capiscono. Tu forse mi puoi dare qualcosa, però gli altri non lo so. E questo è un tipo di atteggiamento che al di là di ferire, cioè al di là di... che ponga una persona a chiedersi ma perché questo, no? Pone dei problemi essenzialmente a me. Cioè io mi pongo parecchi problemi su questo tipo di cose perché quando mi accorgo che persone hanno delle difficoltà ad alimentarsi del fuoco non so, mi chiedo che cazzo parlo a fare a un certo punto. Comunque continuerò a parlare in ogni caso. E questo era il secondo discorso che volevo fare e lo leggo a una serie di cose che ho io in testa. Chiaramente non ho raccontato i fatti per cui io leggo questo discorso, però sono delle cose che ho in testa. Davanti a me io ho una pittura, io ho una pittura di Giampaolo. Giampaolo, spero, sì. Sì. Giampaolo. Una pittura blu in cui nel blu prende forma una figura, una forma di donna. Quella figura blu a me ha ricordato un passo del paganesimo del paganesimo egiziano dove il blu è l'energia vitale inconscia e nell'energia vitale inconscia la coscienza prende forma, cioè la coscienza separa se stessa dall'incoscienza, cioè dall'inconscio. In effetti nel paganesimo egiziano è stato un tempo in cui i preti nemmeno nemmeno prendevano i pesci dal fiume perché i pesci erano contaminati. In realtà nel fiume non si può respirare e rappresentava nelle visioni, cioè l'acqua rappresentava nelle visioni quello che è l'energia vitale immota nello spazio, l'energia vitale inconsapevole nello spazio. E proprio perché l'energia vitale era inconsapevole nello spazio non c'era il respiro. Il respiro, il pulsare, il vibrare nacque quando nacque Osiris, quando la coscienza di sé si separa dall'incosciente, dall'inconsapevole. Ed è una specie di rappresentazione di ogni brodo primordiale che esiste dal quale la coscienza di sé stessi si separa da quel brodo. Questo è ciò che mi ispira questa pittura blu che ho davanti di Gian Paolo. Va bene, chiudo qui il discorso. Chiudo qui il discorso e riprendiamo il discorso del crogiolo del male. Da cosa nasce il discorso del crogiolo dello stregone? Il crogiolo del stregone e poi il crogiolo del male e il crogiolo nei quattro canti del mondo che rappresentano lo stesso libro, cioè lo stesso discorso, nasce dalla visione filosofica, dalla visione esoterica della stregoneria in cui si dice che non esiste nessuna volontà creatrice all'inizio del mondo, non esiste una coscienza che crea il mondo, ma esiste il mondo che esiste in questo momento come noi lo percepiamo in questo momento e anche tutto quello che noi non percepiamo in questo momento che attraverso le sue trasformazioni va a costruire la coscienza universale cioè la coscienza universale va a costruirsi attraverso il mondo come esiste in questo momento per cui vivere ogni attimo della propria esistenza vivere in ogni istante prendersi la responsabilità della propria vita in ogni istante ci permette di partecipare alla costruzione della coscienza universale ci permette di fare quell'operazione di stregoneria di magia che è la costruzione del corpo luminoso che cresce dentro di noi il Dio che cresce dentro di noi ecco all'interno di questa di questa visione diciamo così si è elaborato il concetto del crogiolo dello stregone cioè tutto ciò che c'è da fare cioè alcun no tutto le cose più importanti che emergono in questo momento in questa situazione storica in questo sistema sociale da praticare per fare la prima operazione di stregoneria la prima operazione di stregoneria è quella di sottrare l'individuo all'assoggettamento cristiano cioè l'individuo si sottrae dall'essere in ginocchio si sottrae dal pregare si sottrae dall'attesa del Dio dei cristiani per sottrarsi da questo che questo è stata un'operazione di magia nera è necessario un atto di volontà è necessario un percorso di volontà un percorso di voleri è necessario praticare alcune cose e curare alcuni aspetti particolari delle proprie trasformazioni bene questi aspetti li abbiamo definiti all'interno del crogiolo dello stregone e li abbiamo definiti in maniera generica proprio perché l'individuo deve prendere questi elementi adattarli a se stesso e vedere come usare questi elementi per trasformarsi nel sistema in cui vive cioè è importantissimo in stregoneria la soggettività ed è il discorso che ho fatto anche prima delle diversità perché questo perché ogni persona è divenuta attraverso un processo di costruzione anche quando la persona dice io da questo momento comincio un percorso di stregoneria comincio un percorso di stregoneria con un proprio bagaglio con una propria acquisizione da proprie posizioni assunte e raggiunte per cui deve necessariamente partire da là per fare un percorso di stregoneria per cui quel percorso di stregoneria non sarà mai un percorso uguale a un altro nessuno di voi farete mai un percorso di stregoneria come l'ho fatto io cioè tutto il propedeutico che ho fatto per arrivare a fare il mio percorso di stregoneria perché perché le condizioni che io ho vissuto erano assolutamente peculiari cioè erano specifiche del mio vissuto del mio modo di percepire il mondo del mio modo di sentire per cui ognuno di voi avrà se deciderà di fare un percorso di stregoneria avrà il suo percorso di stregoneria e avrà il suo percorso di stregoneria tanto più importante quanto più non si affiderà a un maestro che lo guida esterno che gli dà la verità confezionata ma tanto più si affiderà al Dio che cresce dentro di lui dopodiché fatto questo siamo passati al crogiolo del male cioè siamo passati a definire tutte quelle cose o quella parte di cose che vengono praticate dal sistema sociale dal comando sociale dal condizionamento educazionale cattolico cioè dalla religione rivelata per distruggere il divenire della persona bene questo l'abbiamo definito nel crogiolo del male copia del crogiolo del male potete trovare in libreria sottomondo inviato al padre a Treviso e sono le primissime che ho messo fuori ne devo stampare delle altre quando mai avrò tempo e poi abbiamo detto quando l'individuo si sottrae dalla posizione in ginocchio prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita lui non fa altro che alimentare il Dio che cresce dentro di lui ma nel momento stesso in cui lui alimenta il Dio che cresce dentro di lui arriva in relazione con tutti gli dei del circostante il circostante è formato da dei plurale dei perché ogni coscienza è un Dio che come lui tende ad espandersi tende a costruirsi tende a divenire nell'eternità dei mutamenti per cui questo è il percorso che il circostante fa questo è in sintesi il discorso di ciò che una persona incontra e allora abbiamo elaborato il crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo affinché questo consenta alla persona di fondere il crogiolo quando io fondo il mio crogiolo con quello di una persona con quello di una donna di un uomo con quello dell'albero del bosco del monte della terra del sole verso il mio crogiolo nel sole e dal sole assorbo delle cose che mi sono utili verso nella terra e dalla terra assorbo cose che mi sono utili verso nell'animale e dall'animale assorbo cose che mi sono utili verso nell'altra persona e dall'altra persona assorbo cose che mi sono utili queste cose che mi sono utili variano la mia percezione del mondo variano il mio modo di affrontare il mondo. E prima di cominciare il giudizio di necessità nel crociolo del male, mi permettete una cosa che non ho mai fatto. Cos'è la cosa che non ho mai fatto? Quella di parlare di politica. Perché non? Perché, come ho detto prima, i pagani sono di tante cose, hanno le loro predilezioni, le loro cose, eccetera. Allora, uno di questi pagani, che è un simpatizzante, un simpatizzante, qui ci tiene molto della Lega, ha avuto la pensata, cosa che io non condivido assolutamente personalmente, però lui ha voluto farlo, di scrivere alla padania a Bossi risponde. In senso, io la padania non la conosco, prendetemi un po' voi per quello che è, se qualcuno di la padania. E dice, fra le altre cose, lui nella sua lettera, però anche i neonazisti e i cattolici conservatori hanno dichiarato guerra al mondialismo. Il termine mondialismo probabilmente appartiene ai leghisti, è un termine che mi è estraneo. E chiede a Bossi di dare una sua spiegazione. In realtà Bossi dice, a parte una piccola introduzione, il tentativo di cancellare ogni differenza culturale e raziale fra i popoli, appartenente ad ambienti geopolitici diversi. C'è chi ritiene che sia stata la religione cristiana a introdurre nella civiltà occidentale l'ideologia dell'egualitarismo, per la quale l'idea di egualitarismo davanti a Dio sarebbe stata progressivamente trasformata nell'ideologia dell'uguaglianza davanti agli uomini e della sua interpretazione scientifica. Cioè questa risposta qua, voi la trovate nella padagna del 25 giugno 1998. Bene, il problema è questo, tutta la risposta di Bossi è una risposta data dal cristiano, cioè nel senso che l'essere umano per Bossi è un essere umano creato ad immagine e somiglianza del Dio. Cioè non esiste una costruzione dell'essere umano, esattamente come per un Bossi non esiste la magia nera, cioè non esiste la distruzione dell'essere umano. Qualunque cosa potete fare ai bambini, dicono i cristiani, tanto dopo continueranno a credere in Dio. Per cui qualunque cosa voi potete stuprarli, potete bastonarli, potete umiliare, cioè qualunque cosa va benissimo perché tanto continueranno a credere in Dio. E questo tipo di concetto che nasce dai Vangeli praticamente, voi lo trovate sempre in qualsiasi politico, cioè da Bertinotti, Cossutta, a D'Alema, a Fini, a Berlusconi, a Prodice, tutti i politici che noi abbiamo partono dal presupposto che l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Per cui non esistono modificazioni nell'uomo, non esistono cambiamenti, non esiste una costruzione dell'essere umano. Voi prendete anche nella filosofia marxista, nella filosofia marxiana, Marx afferma che la produzione, cioè il modo di produrre le merci trasforma il modo di pensare delle persone. Anche Marx è figlio del suo tempo e arriva a fare questa affermazione che per i suoi tempi è una affermazione sicuramente rivoluzionaria, però sta di fatto che nel paganesimo invece l'essere umano costruisce se stesso, cioè l'oggetto del lavoro, l'oggetto del fare, l'oggetto della vita è un atto di costruzione di se stessi, come è un atto di distruzione di se stessi. E questo tipo di concetti, questo tipo di pensiero non esiste in nessun politico, non esiste in nessun sistema filosofico, cioè voi non troverete mai questo pensiero in nessun sistema filosofico. Questo concetto di costruzione di se stessi comincia a emergere nel sistema sociale all'interno della psicologia, all'interno della psicanalisi, però voi nella filosofia e in politica questo tipo di concetto voi non lo costruiscono, anche perché è impensabile per qualsiasi sistema filosofico che il presente vada a costruire una coscienza universale. Per cui la risposta che dà Bossi, più o meno la risposta che dà qualsiasi altro politico per le sue predilezioni, perché chiaramente Bossi la caratterizza per la Lega, però Bertinotti e un consulta la caratterizzerebbero per la rifondazione, per D'Alema, per il PDS, hanno tutte le loro tracce politiche, tutti caratterizzerebbero dal suo. Però la risposta è una risposta standard, cioè una risposta umiliante perché non esiste la concettualità, il concetto che il presente vada a costruire la coscienza universale, che l'attimo presente, la mia scelta, prendere in mano la scelta della mia vita, prendere in mano la responsabilità della mia vita, in questo attimo, in questo preciso momento vada a costruire il mio divenire nell'eternità dei mutamenti, è una cosa talmente enorme, talmente assoluta che anche se non avete sentito dire per due anni lo stesso concetto ripeto ad ogni trasmissione, non avete ancora compreso quanto questo concetto sia una trasformazione fondamentale nella vita delle persone. Va bene, siccome oggi mi sono dilungato un po' troppo, comincio con il giudizio di necessità nel crogiolo del male. Nel crogiolo dello stregone si è parlato del giudizio di necessità come di un ripiego funzionale alla costruzione di un giudizio che pur non essendo completo e sospettando la presenza di fenomeni sconosciuti è necessario formulare per agire nell'ambito della ragione. Il giudizio di necessità è un atto di volontà dell'individuo che da un lato è consapevole del fatto che il giudizio espresso è incompleto e dall'altro deve rispondere alla necessità di agire per rispondere ad intento. La mediazione di tutto questo si chiama giudizio di necessità. Il crogiolo del male deve distruggere la possibilità che l'individuo elabori questo metodo di formazione del proprio giudizio in quanto deve togliere all'individuo la possibilità di determinare se stesso e il proprio divenire. Nel crogiolo del male l'opposto del giudizio di necessità è adesione a critica a giudizio socialmente imposto. Nel crogiolo del male il giudizio di necessità viene impedito costringendo l'individuo a soggettivare i fantasmi della ragione e a fare proprie le paure che costoro ispirano. Il giudizio imposto si contrappone al giudizio di necessità. Che cos'è il giudizio imposto dal punto di vista del paganesimo politeista e della stragoneria? E' quell'insieme di risposte che il comando sociale cattolico ha elaborato a tutti i quesiti della vita o a tutte le situazioni che un individuo deve affrontare. Le risposte etiche, le risposte morali, le risposte religiose, l'espiegazione ai fenomeni dell'esistenza, eccetera, eccetera. Tutto questo viene elaborato dal comando sociale e selezionato in funzione del perpetuare della sua esistenza nella forma attuale. Queste risposte vengono imposte al bambino e il quale deve convenire con queste, pena il suo isolamento. La costruzione dell'emarginazione culturale è determinata dal rifiuto dell'individuo di aderire a quelle risposte e a trasformarle in giudizi soggettivi. Per portare a termine una simile operazione è necessario da un lato impedire all'individuo di usare un atteggiamento scettico nei confronti della risposta possibile. E nello stesso tempo è necessario che venga sottomesso al pensato della ragione al punto tale da non concepire nulla di esistente fuori dal pensato stesso. Come si forma il giudizio imposto? La sua formazione avviene nel bambino piccolissimo quando l'adulto decide di essere creato ad immagine e somiglianza di un dio e ritiene il suo dovere costringere il bambino ad aderire alla sua forma concettuale. La prima cosa che viene imposta è la ripetizione, la ripetizione ossessiva delle parole del giudizio. Il bambino deve aderire al giudizio che dà all'adulto di un oggetto o di una situazione attraverso questo l'adulto distrugge il meccanismo di formazione soggettivo del giudizio da parte del bambino. E' vero che comunque ogni adulto deve fornire gli strumenti al bambino affinché si affermi nel sistema sociale in cui è nato, ma è altrettanto vero che l'affermazione diventa il punto d'arrivo del fare dell'adulto nei confronti del bambino e non il punto di partenza da quale il bambino può comunque espandere se stesso. In altre parole il giudizio imposto non ha il compito di fornire degli strumenti attraverso i quali sviluppare se stessi, ma ha il compito di risolvere in sé il divenire del bambino. Leggiamo cosa afferma Piaget nel suo La nascita dell'intelligenza del bambino. Dice, tuttavia a differenza di quelle le presenti condotte, di Giacomino nota mia, non sembrano più procedere per tentativi o apprendimento, ma per invenzione repentina. In altre parole invece di essere controllata a ciascuna delle sue tappe e ad posteriori da parte dei fatti, la ricerca qui è condotta a priori mediante combinazioni mentali, elaborazione del giudizio di necessità per raggiungere un obiettivo come espressione di un bisogno alimentato da intento. Prima di tentarle, il bambino prevede quali manovre falliranno e quali riusciranno. Il controllo dell'esperienza si riferisce dunque all'insieme di questa deduzione e non più, come precedentemente, ai particolari di ogni singolo procedimento. D'altra parte, il procedimento concepito come quello che deve riuscire è nuovo in se stesso, ossia risulta da una combinazione mentale originale e non da una combinazione di movimenti effettivamente eseguiti ad ogni tappa dell'operazione. E ancora, in invenzione e rappresentazione. Dice, sempre Piaget, bisogna comprendere dal primo di questi punti di vista che l'opposizione fra il procedimento per tentativi guidati e l'invenzione propriamente detta, dipende innanzitutto da una differenza di velocità. La velocità strutturale dell'assimilazione non opera che passo a passo durante i tentativi sperimentali, al punto che non è immediatamente visibile e perciò si è tentati di attribuire le scoperte che ne risultano al solo contatto fortuito con i fatti esterni. Nell'invenzione invece, essa è tanto rapida che la strutturazione appare repentina, sicché l'attività assimilatrice strutturale sembra nuovamente sottrarsi all'osservazione e si è quindi tentati a sostituire le strutture come se si organizzassero da sole. Invece non è vero. Pertanto sembra completa l'opposizione fra l'empirismo del semplice procedere per tentativi e l'intelligenza dell'invenzione deduttiva, ma se si pensa alla funzione dell'attività intellettuale propria dell'assimilazione e dell'accomodamento combinati, ci si accorge che questa attività non è né assente dal procedimento per tentativi empirici né inutile alla strutturazione delle rappresentazioni. Al contrario, essa costituisce il vero motore dell'uno e dell'altra e la prima differenza fra le due situazioni dipende dalla velocità alla quale marcia questo motore. Velocità ridotta nel primo caso dagli ostacoli della strada e accresciuta nel secondo dall'allenamento acquisito. La nascita, questo è quanto dice Piaget, la nascita dell'invenzione nel bambino come strutturazione a monte del sistema mediante il quale risolvere il problema che si pone, altro non è che la rappresentazione del giudizio di necessità, dove i tentativi empirici che ne precedevano la deduzione, altro non erano che tentativi di verifica degli effetti attraverso i quali giungere alla soluzione del problema. L'intelligenza del bambino si struttura empiristicamente attraverso un processo di accumulo che potrebbe essere condotto all'infinito, se non interverrebbe il crogiolo del male a limitarne prima e a distruggerne poi l'espressione. La sospensione del giudizio da parte del bambino permette l'espressione del giudizio di necessità ogni volta che prova empiricamente a risolvere un qualche problema. L'uso del giudizio di necessità non vincola il giudizio del bambino, il giudizio di necessità porta all'azione la quale è strumento attraverso cui modificare il giudizio di necessità stesso. A differenza del giudizio imposto, il giudizio di necessità non è strutturato, è elemento in continua modificazione data l'azione che sorregge e nello stesso tempo la sua modificazione presuppone una modificazione dell'azione stessa. Il giudizio imposto impone invece quella e solo quell'azione dato il problema da risolvere. Quell'azione e quella procedura devono essere sufficienti per raggiungere l'obiettivo preposto. Se non si raggiunge l'obiettivo si deve necessariamente imputare il non raggiungimento a qualche elemento che si è frapposto fra il giudizio imposto e l'obiettivo da raggiungere, tipo il demone, Satana, il nemico, la maledizione eccetera eccetera. Il giudizio imposto è che Dio è buono. Chi non dice che Dio è buono, ad imitazione del pazzo di Nazareth, va contro Dio e deve essere condannato. Ma il giudizio è imposto. Infatti come posso chiamare con l'aggettivo che uso comunemente buono chi dice o fai quello che voglio io o ti ammazzo ed esprime questo concetto attraverso il massacro di Sodoma e Gomorra. Il giudizio di necessità prende atto dell'affermazione secondo cui Dio è buono ma nello stesso tempo mette in essere l'azione della verifica. La verifica dice che il macellare Sodoma e Gomorra non può essere considerato col termine buono in quanto questo termine si riferisce a comportamenti diversi. Dunque usa un altro termine per definirlo. Chi usa per vivere il giudizio di necessità afferma che Dio è buono al di là delle sue azioni in quanto queste sono determinate dal male degli uomini dove la non definizione del termine male o la definizione di tale termine determina l'esistenza di un Dio buono al di là del suo fare che comunque lo qualifica come vigliacco e malvagio. E qui c'è un errore abbastanza pesante. Cambiamo tutto quanto all'inizio. Chi usa per vivere il giudizio imposto afferma che Dio è buono al di là delle sue azioni in quanto queste sono determinate dal male degli uomini dove la non definizione del termine male o la definizione di tale termine determina l'esistenza di un Dio buono al di là del suo fare che comunque lo qualifica come vigliacco e malvagio. Questo blocca lo sviluppo dell'intelligenza ma fa di più. Blocca lo sviluppo empirico attraverso il quale l'intelligenza prende forma nell'essere umano ma fa ancora molto di più. Dal momento che dal punto di vista del sistema sociale si instaura un sistema premiale per chi accetta di soggettivare il giudizio imposto si crea un meccanismo per cui soltanto chi fa del giudizio imposto metodo della propria esistenza ottiene benefici sociali che gli permettono di distruggere chi pratica il giudizio di necessità. Si viene a formare nel sistema di mutamenti un percorso tale per cui la stupidità viene sedimentata nella struttura sociale. In pratica si costruisce un sistema di distruzione dell'intelligenza nel sistema sociale sostituendolo con un sistema di appropriazione attraverso la furbizia. Come nello sviluppo dell'intelligenza nel bambino il giudizio di necessità diventa sempre più elaborato a mano a mano che gli elementi quantitativi vengono accumulati, assimilati e amalgamati. Il giudizio di necessità permette ai dati di essere articolati ed arricchiti in continuazione. L'arricchimento porta l'individuo a progettare l'azione per rispondere ad intento. A mano a mano che l'individuo accumula e verifica empiristicamente costruisce un sistema per dedurre a priori il suo. In quel momento interviene il crogiolo del male. Anziché continuare col sistema precedente dove l'empirismo della sperimentazione altro non diventava che sempre più veloce soffermandosi solo sull'assolutamente nuovo ma saltando il già sperimentato in quanto acquisito interviene il crogiolo del male ad affermare che è l'idea a priori a determinare il comportamento. È Dio come idea assoluta a determinare il fare dell'essere umano. È il giudizio imposto come idea e pensiero a guidare le azioni degli esseri umani. Così l'essere umano perde la capacità di continuare a procedere empiristicamente dentro il nuovo e ad agire col bagaglio acquisito per affrontare quanto conosce. Rinuncia ad accumulare conoscenza per sottomettersi al giudizio imposto il cui scopo è distruggere la sua capacità di dilatarsi nell'esistente, accumulare conoscenza e consapevolezza, affrontare il mondo chiamando le cose col loro vero nome. Come ci dice Piaget, esiste una velocità operativa quando gli elementi con cui agiamo sono già sperimentati e assimilati ed esiste una velocità minore dell'azione e della soluzione del problema quando dobbiamo agire per tentativi nell'affrontare uno sconosciuto. Il giudizio di necessità è sempre azione empirica nell'accumulare dati che variano il giudizio di necessità che a sua volta modifica l'azione. Anche quando una serie di fenomeni sono acquisiti, il giudizio di necessità agisce in quanto la quantità di fenomeni e la loro qualità non è elemento assoluto ma sempre un elemento relativo all'azione in quanto lo sconosciuto che noi affrontiamo è sempre maggiore del conosciuto ed è sempre in grado di modificare il nostro giudizio. La modificazione è tanto più grande quando anche la struttura della percezione soggettiva si modifica e la qualità e la quantità di fenomeni che avevamo acquisiti non ci servono più. Cosa resta quando il feto muore e nasce il bambino? La quantità e la qualità di fenomeni che aveva acquisito in pancia della madre sono variati in quanto è variato il suo modo di percepire il mondo e la qualità dell'oggettività che si trova a dover affrontare. Cosa è rimasto? La sua struttura. Nel suo sforzo empirico di affrontare i problemi, di risolvere i problemi dentro la pancia della madre, ha modificato se stesso. Questa modificazione è sempre parte di lui, sia che egli si trova in uno stato fetale, in uno stato di essere umano o in uno stato di essere luminoso. Il metodo empirico attraverso la sospensione del giudizio e il giudizio di necessità ha strutturato il suo essere, ha costruito il suo essere magico nei confronti del mondo che lo circonda. Anche se cambia l'oggettività percepita o la struttura attraverso la quale il soggetto la percepisce, lo sforzo continuo d'azione attraverso il giudizio di necessità, la trasformazione del giudizio di necessità che varia l'azione e così via, è un meccanismo assimilato dall'essere umano che gli consente di affrontare lo sconosciuto che lo circonda distruggendo i fantasmi che la ragione vorrebbe imporgli. Il meccanismo della nascita dell'intelligenza nel bambino è un meccanismo che possiamo utilizzare per comprendere i meccanismi di sviluppo dell'essere umano in quanto essere magico all'interno dell'essere natura. La loro distruzione come opera del crogiolo del male il cui scopo è limitare non solo lo sviluppo dell'intelligenza dell'essere umano ma soprattutto il suo essere magico, lo sviluppo del suo corpo luminoso nell'eternità dei mutamenti. Il crogiolo del male interviene quasi subito alla nascita dell'intelligenza per interrompere lo sviluppo magico dell'essere umano dove lo sviluppo magico è data dalla sua capacità di sospendere il giudizio e di affrontare l'oggettività attraverso il giudizio di necessità. Quando l'essere umano adulto comprende che quel meccanismo è un meccanismo fondamentale per la costruzione dell'essere magico e la costruzione del proprio corpo luminoso non ha più necessità di pensare di educare il bambino in quanto sta educando se stesso e questo processo di autoeducazione e autoespansione nell'oggettività in cui vive permette al bambino di non rinunciare all'uso del giudizio di necessità e di espandere se stesso nell'infinito dei mutamenti. Questo è il discorso del giudizio di necessità nel crogiolo del male. Il giudizio di necessità è il modo con cui noi affrontiamo il mondo. Cioè è quel giudizio che veniva espresso dagli scettici quando pur essendo scettici davanti alla vita dovevano comunque comperarsi il pane, dovevano mangiare, dovevano fare tutte le loro cose nel loro quotidiano. Allora pur essendo scettici, mantenendo un atteggiamento scettico rispetto alla realtà delle cose, dovevano comunque agire rispetto alle cose stesse. E allora pur sapendo che la quantità di fenomeni che loro erano in grado di percepire non era adeguata per definire l'oggetto che andavano ad affrontare o andavano a relazionarsi, bene, comunque dovevano dare un giudizio sul oggetto stesso, dovevano andare al panettiere e dirgli dammi il pane. Bene, questo dammi il pane pur sapendo che la definizione del pane è una definizione incompleta, non risponde a tutti quelli che volevano, era imprecisa e tutto il resto, comunque dammi il pane dovevano andare a comprarsi il pane, dovevano dare un giudizio. Però nel momento stesso in cui il panettiere metteva segala nel pane e volevano un pane di segala, andavano al panettiere e dicevano dammi il pane di segala. Cioè a un fenomeno prima, a un giudizio che davano prima con una certa struttura di fenomeni, aggiungevano qualcos'altro. Cioè il giudizio di necessità è un giudizio aperto, è un giudizio di qualcosa di nuovo. È un giudizio che permette all'individuo di non avere un'idea fissa su una cosa, ma di avere un'idea relativa alla cosa in base al proprio bisogno, ma senza per questo essere schiavo del giudizio stesso. Gli schiavi del giudizio stesso sono i cattolici. I cattolici pensano al loro Gesù di Nazareth come un essere buono, in realtà è un pezzo di merda, è un pazzo, è un lazzarone, un assassino, cioè qualcosa di più abieto. Però loro gli hanno imposto di pensare al Gesù di Nazareth come buono, bene, anche se Gesù di Nazareth praticamente dà le indicazioni come distruggere i sistemi sociali, loro continueranno a pensare al Gesù di Nazareth come buono, perché questo è il giudizio imposto, non si vanno neanche a verificare. E lo stesso vale per Dio. Il loro Dio, davanti al quale mettono in ginocchio i bambini, ha distrutto i sistemi sociali, ha distrutto l'umanità con lo diluvio universale, gli ha impedito agli esseri umani di andare a cogliere dall'albero della vita eterna? Ebbene, nonostante questo, pregano Dio perché li aiuti. A Dio non gliene frega niente, non gliene frega talmente niente che addirittura, quando i figli di Zebedeo vanno da Gesù a dirgli, noi possiamo fare tutto quello che fai tu, sai, chi cavolo ti crede di essere, basta che tu ci scegli il nostro posto in paradiso. E no, voi fate pure i martiri, però Queo decide solo stai entro. Per cui è un Dio semplicemente malvagio, che non sta ai patti, non è sottoposto a nessuna condizione, è padrone di stuprare gli esseri umani. E davanti a questo i cattolici mettono in ginocchio i bambini, davanti a questo i cattolici firmano per dare i soldi alla Chiesa Cattolica, firmano per aiutare i cattolici proprio a distruggere i sistemi sociali. Addirittura la Chiesa Cattolica vuole finanziare la propria scuola privata per poter dopo distruggere la scuola pubblica, ma non dice la Chiesa Cattolica che vuole distruggere la scuola pubblica. È vero, neanche Hitler quando era in bireria diceva che voleva costruire i campi di sterminio. Ma vogliamo fermarli in bireria o abbiamo aspettato che costruissi i campi di sterminio per fermarli? Questa è una cazzata amici miei. Bene, detto questo, detto questo, detto questo, andiamo avanti con la, andiamo avanti con la rassegna stampa. Io ho finito il crociolo del male, vi ricordo che in libreria a Treviso, libreria Sottomondo, in via Tolpata, troverete tutti i miei libri e tutto quello che vi sto leggendo e descrivendo qui in trasmissione. Vi ricordo che ogni martedì del mese, ogni primo martedì del mese Franco fa una specie di riunione, di assemblea, di discussione su temi vari, temi abbraccio che lui prende. Ogni martedì del mese, la sera sulle otto e mezza, nove, insomma, di solito comincia. Vabbè, il martedì non è un buongiorno perché ci dobbiamo alzare la mattina, però, insomma, in ogni caso, vabbè, vi invito, vi invito a, non so, a sentirlo, a partecipare se avete intenzione. Vi diamo una telefonata e dopo andiamo avanti. Pronto? Dimmi. Mentre? Dimmi. Senti un po', mi dai una definizione? Se posso? Sì. Eh, parlo dopo, metto giù perché mi costa parecchio a me. Allora, cos'è Prete? Per te? Sì. Scusa, non ti sento. Ti sento, ti sento, mi senti? Sì, 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 sì. Eh, va bene, ti definisco, cos'è un Prete? Sì, spero, spero, io ti faccio due o tre ipotesi e dopo metto giù, ah. D'accordo. Grazie. Tranquilla. Cosa lo distingue dagli altri? Qual è la sua forma mentis? Per me è una categoria mentale e mi chiedo quanto tu si apprete e naturalmente quando lo sarò anch'io, o ognuno, insomma.